I finanziari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziale di Palermo e della Compagnia di Sciacca hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di sei soggetti destinatari dalla misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriali e professionali nonché di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche e imprese. Gli indagati sono indiziati a vario titolo dai reati di associazione delinquere, bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Con lo stesso provvedimento il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro di disponibilità finanziaria e di tre società operanti nel settore immobiliare, due delle quali proprietari della nota struttura turistico alberghiera Torre Macauda, Sita e Sciacca, in provincia di Agrigento. Le indagini avrebbero permesso di ipotizzare complesse e strutturate operazioni finanziarie finalizzate alla distrazione di ingenti disponibilità di spettanza delle società che nel tempo avevano detenuto la proprietà del complesso ricettivo, sino a causarne il dissesto e il successivo fallimento. Attuando un sistema di riciclaggio che sarebbe stato concordato tra gli imprenditori indagati e dirigenti e consulenti di un primario istituto di credito nazionale, il suo delizio avrebbe riacquistato la stessa struttura ricettiva che nel frattempo era stata emessa in vendita mediante aste esecutiva. Nel concreto, l'attività di indagine avrebbe permesso di individuare una prima fase dell'articolato disegno criminoso relativa all'acquisto di un credito per circa 28 milioni di euro vantato dallo stesso istituto bancario nei confronti del gruppo imprenditoriale proprietario del complesso turistico a fronte del pagamento di solo 4 milioni di euro, utilizzando a riguardo i fonti sottratti alle società fallite. Una seconda fase sarebbe relativa al riacquisto della struttura ricettiva in sede di aste esecutiva a fronte di un'offerta di circa 8 milioni di euro che il soggetto giudicatario non avrebbe interamente pagato all'istituto bancario. In questo caso, i dirigenti bancari avrebbero falsamente attestato l'avvenuto pagamento nella dichiarazione di quetanzia necessaria all'emissione del decreto di trasferimento del compresso turistico. Gli stessi avrebbero altresì impartito le disposizioni di bonifico a quelle relative all'apertura alla successiva estinzione dei conti correnti utilizzati per far transitare le somme di denaro distratte dalle società fallite e poi impiegate per finanziare l'acquisto del credito e la riacquisizione della struttura. Grazie a tal articolata operazione, il sudalizio criminale sarebbe rientrato in possesso dell'intera struttura ricettiva e la banca avrebbe monetizzato un credito vantato ormai da decenni di difficile realizzazione. Le attività investigative avrebbero, peraltro, disvelato un tentativo di truffa ai danni dello Stato, finalizzato ad accaparrarsi un finanziamento pubblico destinato allo sviluppo delle attività ricettive di circa 1,8 milioni di euro. Dalle prime luci dell'alba la Polizia di Stata con il Servizio Centrale Operativo e la Squadra Mobile della Questura di Catania ha dato esecuzione all'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di 25 soggetti, 18 dei quali tradotti in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 2 sottoposti all'obbligo di dimora, in quanto gravemente indiziati, con differenti profili di responsabilità di delitti di associazione del tipo mafioso, estorsione, usura, apporto e detenzione illecita di armi da sparo, lesioni personali aggravate dall'uso di armi da sparo, tutti reati aggravati dalle finalità di agevolare l'associazione mafiosa di appartenenza, quella della famiglia Santa Paola Ercolano. Alla luce delle indagini, supportate da presidi tecnici, intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche, videoregistrazioni, che hanno interessato proprio la famiglia catanese storica di Cosa Nostra, si sarebbe evidenziata la perdurante attività e pericolosità della stessa famiglia. I dettagli dell'operazione Ombra nelle parole del dottor Sfameni. Allora, con l'operazione di oggi è stata disarticolata la famiglia mafiosa nota come clan Santa Paola Ercolano, arrestandone il reggente. Per quanto concerne le attività di indagine, nel corso delle medesime sono state sequestrate numerose armi da fuoco a dimostrazione della pericolosità della Cosca e dei membri che ad essa appartengono. Sono state sequestrate 5 pistole, un fucile a pompa, un fucile a canne muzzate. Per quanto attiene alle attività economiche in cui la Cosca era impegnata, nel corso dell'azione investigativa sono stati documentati reati quali usura, estorsione e traffico e spaccio di sostanze sulle facenti. Peraltro, attraverso intercettazioni ambientali e videoregistrazioni, nel corso delle indagini sono stati monitorati numerosi incontri tra i vertici appartenenti alla Cosca. Sono stati destinati della custodia cautelare in carcere Giuseppe Amato, Angelo Arena, Salvatore Assinnata, Letterio Barresi, Francesco Caccia, Angelo Antonio Castorina, Mario e Salvatore Ercolano, Carmelo Fazio, Salvatore Antonio Pietro Iudicello, Alfio Minnella, Salvatore Mirabella, Cristian Paternò, Stefano Platania, Alessandro Ruggeri, Francesco Russo, Carmelo Daniele Strano e Benedetto Zucchero. Mentre i cinque sottoposti alle arresti domiciliari sarebbero Concetto Salvatore Di Raimondo, Salvatore Ettore Pandetta, Valeria Emanuele Pelleriti, Diego Filippo Russo, Francesco Santa Paola. Infine, Santo Bella e Salvatore Scalia sarebbero soggetti destinatari della misura cautelare dell'obbligo di dimora. Tutti gli indagati manifestavano la certa propensione a ricorrere sistematicamente alla violenza come strumento per ribadire la loro autorità criminale nei territori della loro competenza miafiosa. Abbandone strada la refurtiva. Arrestato in ciabatte tra i bagnanti dai carabinieri del comando provinciale di Acicastello, un catanese 52enne in trasferta. È accaduto ieri quando i carabinieri della locale stazione di Acicastello sono intervenuti in via Livorno. Dopo la segnalazione di una donna, che è allertata dal suono dell'allarme del suo garage e affacciandosi al balcone, avrebbe visto un uomo che le stava rubando la bicicletta. Vistosi scoperto il ladro, avrebbe lasciato la bici dandosi alla fuga. I militari dell'arma si sarebbero messi subito sulle sue tracce, scorgendo l'uomo in piazza delle scuole nei pressi della fermata dell'autobus, il quale con nonchalance fingeva di attendere l'arrivo dei mezzi pubblici. Quando i carabinieri si sono avvicinati per controllarlo, lo stesso si sarebbe dato alla fuga, lasciando per terra un socchietto pieno di gioielli e telefoni cellulari che aveva rubato in altre abitazioni. Immediato l'inseguimento, durante il quale il malvivente dapprima avrebbe tentato di rifugiarsi in uno stabile abbandonato e dopo addirittura sarebbe scappato lungo la spiaggia affollata, spogliandosi anche dai vestiti per cercare di nascondersi tra i bagnanti, infine gettandosi in mare. La rocambolesca fuga non gli è tuttavia servita a nulla perché i carabinieri, grazie al supporto di altre pattuglie presenti in zona, sono riusciti a bloccarlo e metterlo in sicurezza. Il malvivente, che non aveva con sé documenti, è stato identificato per un 52enne catanese pregiudicato e già destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto responsabile di tre furti resistenza pubblico ufficiale commessi a Catania il 30 giugno. Il malvivente è stato arrestato e tradotto nel carcere di Catania, Piazza Lanza.